Il nuovo rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano realizzato dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali sugli ultimi dati di bilancio consolidato relativi al 2019, ma troverete anche nel rapporto delle proiezioni e delle previsioni al 2020-2023. Un ringraziamento ovviamente alla Presidenza della Camera dei Deputati che ci ospita per questa conferenza stampa e un ringraziamento all'Onorevole Paolo Russo e al Senatore Tommaso Nannicini per essere qui con noi. Io procederei con una breve presentazione focalizzata soprattutto su quattro punti che secondo noi costituiscono un po' una sfida per il governo Draghi. Poi seguiranno le considerazioni dell'Onorevole Russo e Nannicini e chi è collegato potrà fare delle domande in streaming. A questo punto entro nella fase di condivisione. Ecco qua. E quindi cominciamo direttamente con la presentazione. Allora, oggettivamente il 2019 è stato un po' l'anno dei record. Un record, anche se non propriamente positivo, è il saldo di bilancio. Questo numerino in rosso che trovate, il terzo numerino sotto il 2019, che è di 20,8 miliardi di disavanzo. È però il miglior risultato dal 2012. Quindi dal 2012 abbiamo sempre migliorato i saldi di bilancio che nel 2013 erano di meno 25 miliardi. Ovviamente dove sono i problemi? Il primo problema è sicuramente la gestione dei dipendenti pubblici che presenta un disavanzo di 33,6 miliardi. E poi ci sono i fondi speciali, soprattutto le ferrovie, l'ex fondo delle ferrovie dello Stato, con oltre 4,3 miliardi di disavanzo. L'Alitalia, il fondo volo, diciamo che è appesantito dall'Italia e meridiana. I coltivatori diretti, quindi il settore agricolo, con meno 2 miliardi. Degli artigiani e il fondo delle poste e delle telecomunicazioni, l'ex e-post. Devo metterla? Va bene. Ecco che mi sono mascherato. Quindi questi sono i fondi in passivo. Per quanto riguarda il ripristino di questo parziale equilibrio, abbiamo invece che il fondo pensione ai lavoratori dipendenti dà più di 6 miliardi di avanzo di gestione, i parasubordinati oltre 7 miliardi, ma anche la gestione dei commercianti con più di 880 milioni e le gestioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi, l'ex e-impulse, con 400 milioni di surplus di gestione. Quindi tutto questo riesce a far contenere il deficit in quello che ci siamo detti. Ovviamente, come vedete da questo slide, si capisce perché la gestione dei dipendenti pubblici è in passivo, perché i dipendenti pubblici finanziano solo il 54,2% della spesa, gli artigiani il 72,6% e addirittura il comparto agricolo il 35,7%. Sono in attivo tutte le gestioni dei liberi professionisti, cioè tutte le casse professionali, salvo l'impigi che è in una situazione che è piuttosto grave e preoccupante dal punto di vista tecnico-attuariale. Dicevamo, è l'anno dei record anche perché l'occupazione non è mai stata così alta. Noi abbiamo toccato i 23,37 milioni di occupati, per la verità nel luglio del 2019 erano 70 mila in più, è il record di tutti i tempi abbattuto anche il 2008 e abbiamo toccato il 59,1% di tasso di occupazione totale, il 50,1% di tasso di occupazione femminile che mai era stato raggiunto e il 61% degli over 50, quindi significa che le riforme hanno centrato gli obiettivi. Dal punto di vista dei pensionati, così ci viene fuori il primo punto determinante che è il rapporto attivi-pensionati, i pensionati sono stati 16,35 milioni, quindi 30 mila in più rispetto al record di tutti i tempi del 2018 quando abbiamo registrato il minimo valore assoluto del numero di pensionati, con 16 milioni e 4 mila unità. Noi ci aspettavamo molto di più da quota 100 perché sono state 150 mila le richieste, ma probabilmente ci sono state molte cancellazioni perché circa 1,3 milione dei 16 milioni di pensionati attuali percepiscono prestazioni da 35 o 42 anni, quindi probabilmente ci sono state molte cancellazioni e non ultimo dopo la riforma Fornero il salto per le donne è stato molto elevato, le donne che sono nate nel 52 hanno aspettato anche 6 anni per poter andare in pensione e quindi nel 2020 troveremo sicuramente qualche pensionato in più e poi ci saranno tutti i problemi dell'anno della pandemia. Tutto questo per dire che il rapporto attivi-pensionati che per un sistema come il nostro a ripartizione è fondamentale ha toccato il valore migliore di tutti i tempi con 1,46 circa, 1,457 e è molto vicino a quello 1,5 che sarebbe quel coefficiente che ci metterebbe un po' in tranquillità. Le notizie però buone finiscono qui perché nel 2020 avremo sicuramente un aumento delle pensioni stimate in quasi 100.000 unità, probabilmente ci sarà qualche cosa meno perché la stima ha tenuto conto dell'evento negativo della pandemia che come sapete ha colpito al 94% persone oltre i 60 anni quindi molti di questi già pensionati e ha indotto però una serie di pensioni di reversibilità. L'occupazione probabilmente si ridurrà di parecchio la stima ufficiale è 444.000 però bisogna tenere conto che una gran parte di partite IVA soprattutto nel settore turistico e alberghiero non hanno ancora consegnato la partita IVA cioè non lavorano ma non hanno ancora chiuso l'attività quindi noi stimiamo che a fine 2020 saranno più di 700.000 i nuovi disoccupati. Andando avanti vedete che Quota 100 ha avuto un risultato di 150.000 richieste nel 2019 e 117.000 nel 2020 probabilmente bisognerà vedere gli andamenti della pandemia nel 2021 ma tenete conto che ormai il 95% di tutti coloro che accedono a Quota 100 sono misti quindi hanno oltre il 60% di pensione calcolata con il metodo contributivo e quindi hanno a 62 anni rispetto ai 67 un taglio della pensione che non è di poco conto. E veniamo al secondo punto il dato di bilancio qui andiamo rapidamente nel 2019 abbiamo speso 488,3 miliardi per pensioni, sanità, assistenza sociale e le varie funzioni di welfare ne spendevamo 432 nel 2012 quindi l'aumento è stato di oltre 50 miliardi questa spesa incide per il 56% sull'intera spesa pubblica ma se la dovessimo rapportare alle entrate che è più corretto inciderebbe per il 58% tutto questo ci dice che il nostro paese molte volte si dice spende poco nel sociale è uno dei paesi che spendono di più al mondo per spesa sociale ovviamente essendo ai primi posti in Europa e siccome è l'Europa la culla del welfare e dove si spende di più è evidente che siamo ai primi posti mondiali un'altra dei temi che noi cominciamo a dare al governo Draghi quindi abbiamo detto l'occupazione abbiamo detto come uscire da 400 e c'è anche la comunicazione come vedremo noi comunichiamo che la spesa per le pensioni è molto molto alta a Bruxelles mentre la media dei paesi europei è piuttosto bassa allora abbiamo cominciato a fare una separazione tra assistenza e previdenza rigorosamente sui bilanci dell'Inps quindi non ci siamo inventati nulla e sulla traccia di quello che veniva fatto col nucleo di valutazione per farla breve le pensioni costano 230 miliardi incidono per il 12,88% però bisogna considerare che sulle pensioni gravano 54 miliardi di imposte per cui il sborso netto dello Stato è 156,7 miliardi quindi l'8,77% per cui anche qui noi diamo il rapporto comunque al governo come tradizione ma bisogna che cominciamo a comunicare bene perché se noi abbiamo comunicato nel 2000 per il 2018 che è l'ultimo anno che Istat ha comunicato a Eurostat che noi spendiamo il 16,30% solo per le vecchiaie superstiti mentre a noi risulta il 12,81% invalidità vecchiaie superstiti e la media europea è il 12,20% siamo nella stessa condizione del governo Monti Fornero quando l'Europa ci ha detto sono 4 punti di PIL 4 punti di PIL sono 65, 70 miliardi dovete ridurli e sono proprio il valore delle imposte terzo punto anche qui rapido è l'assistenza la spesa assistenziale è probabilmente fuori controllo semplicemente perché manca una banca dati dell'assistenza e soprattutto perché non ci sono regole stringenti e tutti i giorni noi da tutti i telegiornali scopriamo che ci sono casi in cui l'invalidità non doveva essere data il reddito di cittadinanza nemmeno eccetera eccetera nel 2019 lo Stato per le attività assistenziali a carico della Fiscalità Generale ha erogato 114 miliardi ma la considerazione finale per questo terzo punto è questa noi nel 2008 spendevamo 73 miliardi di spesa a carico della Fiscalità Generale per la spesa sociale e abbiamo visto che nel 2019 ne spendiamo 114 abbiamo provato a vedere i dati di povertà assoluta e povertà relativa nel 2008 le persone in povertà assoluta stimata dall'Istat erano 2 milioni e 100 nel 2019 sono circa 5 milioni quindi abbiamo speso 41 milioni strutturali in più per avere più che un raddoppio della povertà questo è un dato fondamentale perché da un lato deve far capire se le politiche che sono state fatte finora sono corrette e dall'altro occorre ovviamente un monitoraggio anche la povertà relativa è passata da 6,5 milioni di italiani a circa 9 milioni di italiani quindi qualche riflessione vignerà pur farla per dire come la spesa assistenziale si sia sviluppata vedete che il numero dei pensionati è 16,16 milioni e 35 mila ma di questi il 50% e più sono totalmente o parzialmente assistiti il che significa che in 15 anni di vita su 67 non hanno versato i contributi basterebbero 15-16 anni per avere la pensione minima e quindi questo è il risultato riprova nel 2019 l'Inps ha erogato 1.210.000 nuove prestazioni il 2% della popolazione di queste la metà sono assistenziali e infine l'ultimo punto che è un altro punto che deve stare all'ordine del giorno del governo visto che si parla sempre di riforma dell'IRPEF e quindi di riformare il carico fiscale è come si finanzia tutta questa enorme spesa bene per finanziarla occorrono tutte le imposte dirette quindi l'IRPEF l'IRES l'imposta sostitutiva ISOST le addizionali regionali e comunali tutta l'IRPEF in pratica per finanziare poi il futuro del paese quindi l'istruzione la ricerca e tutto quanto rimangono 19 miliardi scarsi e le imposte dirette ma il problema vero e concludo è che chi paga le imposte è sempre meno questa è la risultante dei dati dell'agenzia dell'entrata e il dipartimento delle politiche fiscali del MEF in sostanza stringendo in sintesi il 60% degli italiani versa poco più del 9% dell'IRPEF 16 miliardi ma ne riceve in cambio tanti per garantire la sola sanità che costa 1886 euro pro capite a queste persone bisogna che il restante 40% di cui un 22% è autosufficiente cioè paga imposte per se stessi per la famiglia e quindi non grava su nessuno il grosso grava sul 13% della popolazione che ha redditi da 35 mila euro in su e che però pagano solo il 13% il 60% e più di tutta l'IRPEF quindi il 60% paga il 9% e il 13% paga il 60% ecco per garantire sanità assistenza sociale istruzione quindi solo queste tre funzioni occorre che questo poco più del 20% metta in tasca degli altri 175 miliardi quindi abbiamo una redistribuzione che è molto molto elevata e questo è come uscire da quota 100 abbiamo formato formalizzato una proposta di riforma che abbiamo consegnato e al precedente governo consegneremo a questo quindi io vi ringrazio per questa presentazione e passerei la parola subito all'onorevole Paolo Russo per la sua diciamo le sue considerazioni intanto grazie professore per le utili sollecitazioni che subito mi fanno dire la sensazione che la politica abbia preferito in questi anni l'assistenzialismo alle riforme in nome della ricerca di un consenso immediato ovviamente questo non ha favorito né occupazione né sviluppo e dai dati che leggiamo con tanto interesse non ha nemmeno aiutato a combattere la povertà semmai la rincorsa ringrazio il professore Brambilla per l'invito a partecipare a questa conferenza stampa soprattutto il centro studi e ricerche di itinerari previdenziali per il prezioso lavoro che ogni anno conduce non solo sul sistema previdenziale italiano ma anche sulle sue connessioni con il mondo del lavoro e sul più generale sistema di welfare del nostro paese non spetta a me ovviamente entrare nel dettaglio dei dati contenuti nel rapporto ma vorrei soffermarmi sui limiti e le carenze degli interventi pubblici in materia sociale che il documento pubblicato denuncia con efficacia devo dire una denuncia che mi pare sia rimasta largamente inascoltata purtroppo nel corso di questa lunga emergenza provocata dalla pandemia i necessari interventi di sostegno sono apparsi troppo spesso tardivi inadeguati hanno penalizzato alcune categorie penso agli autonomi ai professionisti e non sono stati affiancati dalle misure necessarie a garantire la ripresa economica e dell'occupazione la politica anche al di fuori dell'emergenza ha preferito troppo spesso distribuire bonus sussidi piuttosto che investire che programmare che riformare ricordo tutti quei ministri affacciati al balcone di Palazzo Chigi per annunciare di aver sconfitto la povertà la verità è che il reddito di cittadinanza si rivela ogni giorno di più un fallimento chi è in difficoltà ha bisogno certo di lavoro non di un semplice sussidio ha bisogno di una rete sociale di assistenza e di formazione continua semmai non di starsene a casa abbiamo visto assegni arrivare a casa di persone condannate per mafia che non avrebbero avuto il diritto di riceverli e le nostre forze dell'ordine hanno scoperto questi abusi solo dopo molto tempo e indagini dispendiose quando sarebbe bastato avere un semplice registro degli assistiti e poterlo incrociare con il casellario giudiziario sono tutti dati largamente a disposizione della pubblica amministrazione ma i diversi organi ancora oggi faticano a dialogare tra loro e alimentano sprechi ed evasione fiscale poi però si è fatto il cashback e la lotteria degli scontrini magari quei soldi sarebbero potuti servire per investire risorse e digitalizzare la pubblica amministrazione per cui i dati che vengono quest'oggi offerti hanno una rotondità di interpretazioni si prestano straordinariamente a sollecitazioni critiche e analisi a tutto tondo e che investono non soltanto l'aspetto del welfare se non interveniamo per esempio profondamente sulla giustizia sulla pubblica amministrazione sul fisco gli investimenti per la crescita rischiano puntualmente di cadere nel vuoto l'approccio del Presidente del Consiglio appena nominato e che speriamo ottenga la fiducia meritata nei prossimi giorni domani e dopodomani rappresenta un'inversione a U mi sembra rispetto a quanto abbiamo visto finora ci riporta su quella strada del cambiamento che i governi italiani finora non hanno avuto la capacità la voglia e il coraggio di intraprendere il sistema previdenziale è emblematico da questo punto di vista da una parte abbiamo avuto riforme che ne hanno garantito una sostenibilità a lungo termine dall'altra le diverse misure per anticipare l'età pensionabile da ultima la quota 100 nonché le troppe prestazioni assistenziali e gli sgravi contributivi che sono stati introdotti hanno complicato questa tenuta senza peraltro apportare come si legge vantaggi all'occupazione e più abbiamo bisogno di attingere alla fiscalità generale per mantenere in piedi questo sistema più sarà ovviamente difficile abbassare le tasse ai cittadini le tasse soprattutto a quel ceto medio che come indica con chiarezza il rapporto si fa carico della gran parte delle imposte a fronte della metà dei cittadini che di fatto non versa nemmeno un euro di IRPEF evidente che si tratta di una situazione insostenibile e poco realistica per un paese come il nostro che va esaminata a fondo per individuare abusi ed illegalità cito solo alcuni possibili interventi penso eliminare le rigidità imposte dal decreto dignità che in un'eterogenesi dei fini anziché stabilizzare i precari ha finito per lasciarli senza lavoro rendere lo smart working e il part time non degli obblighi imposti dalla pandemia o dalle esigenze di cura della famiglia da parte delle donne ma una vera opportunità per mantenere una continuità occupazionale allo stesso scopo rafforzare consentitemi soprattutto al sud le infrastrutture sociali penso agli asili nido penso ai tempi pieni nelle scuole ma anche i servizi di assistenza per anziani per disabili non autosufficienti insomma insomma la sensazione che tutto si tenga non possiamo permettere di pensare non ci possiamo permettere di pensare come se fossero tutti compartimenti stagni ma abbiamo bisogno di cambiare in profondità il paese dopo troppi anni di assistenzialismo fine a se stesso e il sistema pensionistico così come ci è rappresentato devo dire da numeri che indicano con una chiarezza inequivoca lo stato dell'arte del nostro paese il sistema pensionistico così raccontato diventa il termometro naturale della nostra capacità di agire perché su di esso si riversano gli effetti di praticamente tutti gli interventi in materia socio-economica per questo chi fa politica chi esercita questa azione chi si cimenta in queste responsabilità in questo incarico come noi come me dovrebbe intanto sempre e dico sempre tenere sulla propria scrivania come promemoria permanente come dire ogni giorno sfogliare qualche pagina del rapporto annuale di itinerari previdenziali diventa uno strumento straordinariamente importante ma soprattutto un binario di accompagnamento che può essere esso si guida per scelte strategiche che intervengono non soltanto sul welfare ma che intervengono a tutto tondo sull'intero sistema socio-economico del nostro paese grazie grazie la parola adesso al senatore Tommaso Nanecini prego Tommaso grazie grazie buongiorno ringrazio anch'io il professor Brambilla e itinerari previdenziali non solo per l'invito ma come sempre per il rapporto che rappresenta una base conoscitiva fondamentale per chi ancora si ispira nel fare politica al motto inaudiano di conoscere per deliberare ora questo rapporto è particolare perché si inserisce in un crinale rispetto allo shock della pandemia e la crisi economica e sociale innescata dalla pandemia particolare è perché ci dà un quadro di conti consolidati pre-pandemia e delle proiezioni che invece accendono anche l'attenzione sulle conseguenze sulla sostenibilità del nostro sistema di welfare per gli effetti di questa nuova crisi ora io penso che sia importante tenere insieme queste due parti perché alcune delle luci che stanno dentro il rapporto anche se superate dallo shock pandemico ci permettono di mettere in prospettiva gli interventi di cui avremo bisogno per non rispondere sempre all'emergenza in maniera episodica e appunto estemporanea e emergenziale ma cercando di capire da dove veniamo quali sono i nodi i punti di forza e di debolezza del nostro sistema di welfare per fare interventi il più possibile organici e sistematici quindi io parto al di là della ricostruzione molto precisa sul rapporto attivi pensionati e sulle criticità di gestioni previdenziali diverse dal tema previdenza assistenza e come comunichiamo ma anche come pensiamo la riforma del welfare tenendo distinti due canali e cercando di trovare risposte adeguate sia dal lato previdenziale sia dal lato assistenziale ora io credo che fermo restando l'esigenza non solo comunicativa ma anche appunto di disegno di policy di separare sempre meglio e con maggiore chiarezza la parte previdenziale e la parte assistenziale ci sono anche obiettivi di policy diversi nei due canali dal lato previdenziale abbiamo una grande bisogno di certezza abbiamo bisogno di dare certezza alle regole del gioco rispetto alla parte previdenziale sulla parte assistenziale abbiamo bisogno di riforme ispirate a un universalismo selettivo che migliorino l'efficienza di target dei nostri interventi perché è vero che si spende molto secondo me il problema dal lato assistenziale non è tanto di spendere molto ma è di spendere male e le due cose ovviamente si tengono tra loro perché se spendi male e non hai un'efficienza di target dei tuoi interventi spesso rincorri pressioni assistenziali e la spesa si allarga ma lasciando sempre dei buchi perché se la rincorri con interventi categoriali ed estemporanei poi i buchi restano e il tema è appunto che spendi male più che spendere tanto quindi certezza dal lato previdenziale e universalismo selettivo dal lato assistenziale per delle riforme che diano stabilità al nostro sistema di welfare queste sono le sfide che vedo inserite nel quadro statistico e anche di proposte del rapporto di itinerari previdenziali chiudo sugli aspetti della riforma pensionistica e del superamento di quota 100 ovviamente io credo che non dovevamo arrivare qua dovevamo anticipare il tema della fine della sperimentazione di quota 100 almeno con la scorsa legge di bilancio perché ovviamente lo scalone indotto dalla fine della sperimentazione creerà delle pressioni politiche non permetteranno che adesso magari sono anestetizzate dalla fase pandemica che stiamo vivendo e quindi non c'è un'attenzione né sociale né mediatica sulle pressioni che quello scalone creerà ma poi i nodi arriveranno al pettine arriveranno al pettine alla fine di quest'anno quindi è stato un errore non anticipare quello scalone credenziale a una fuoriuscita graduale da quella sperimentazione verso un sistema che dia appunto certezza e stabilità alle nostre al nostro quadro di norme previdenziali però qua siamo e qua dobbiamo muoverci io penso che dovremo muoverci con tre ingredienti uno è in parte nelle proposte anche del rapporto quindi di revisione della flessibilità in uscita all'interno del sistema contributivo per dare certezza adesso ci sono troppi valetti troppi vincoli la speranza di vita incide sia sui coefficienti di trasformazione sia sui requisiti anagrafici e contributivi dobbiamo fare in modo di rivedere questi istituti per renderli certi e più fluidi io penso anche però sempre con trasparenza e chiarezza che ci voglia una parte perché comunque l'invecchiamento della popolazione non scomparirà gli andamenti occupazionali per quanto speriamo ovviamente in una fase di ripresa saranno quelli che saranno ancora dovremo gestire una lunga fuoriuscita dalla crisi ci vorranno anche interventi assistenziali purché trasparenti mirati e chiari per chi ha una certa età si trova disoccupato si trova condizioni soggettive di bisogno io penso che serva un'ape sociale forte strutturale che dia risposte a categorie in condizioni di bisogno ho un disegno di legge su questo con una quota 92 ma solo non per rincorrere i numeri ma solo per queste categorie e poi c'è il tema e chiudo dell'invecchiamento attivo so che anche qua le proposte e gli istituti si sono rincorsi negli anni senza mai grandi successi però io credo che il tema dell'invecchiamento attivo sia fondamentale e richieda una sfida non solo a chi fa policy ma anche una sfida al mondo delle imprese in termini di age management e di revisione di certi modelli perché non ne usciamo soltanto se inseguiamo con una richiesta di prepensionamenti l'idea di rottamare forza lavoro anziana ne usciamo se invece entriamo in una logica di invecchiamento attivo cambiamento di mansioni e trasferimento di conoscenza e staffetta generazionale che non vuol dire vai via tu entro io che spesso come dicono anche i dati non funziona vuol dire insieme ripensiamo mansioni tempi e modelli di organizzazione del lavoro per fare una vera staffetta di conoscenze tra generazioni grazie grazie tommaso io a questo punto direi ci restano ancora un po' di minuti se ci sono delle domande da parte dei collegati io penso che si possano siamo qui sì Davide Colombo buongiorno a tutti sì molto bene Davide volevo chiedervi l'esperienza dello smart working diffuso che è stato imposto dalla pandemia nel 2020 ha fatto stimare a Istat che potenzialmente potremmo trovarci in condizioni di gestire il telelavoro tra i 7 e i 7 e i 5 milioni di lavoratori in una situazione normale secondo voi questo in qualche modo può incidere su una soluzione che appunto preveda allungamenti diversi della vita lavorativa in questa condizione e quindi faciliti la questione di affrontare requisiti di pensionamento più elevati senza particolari spargimenti di sangue dal punto di vista politico allora io penso che poi lasciamo la parola a Paolo Russo e a Tommaso Nannicini che queste stime siano come dire un po' premature abbiamo subito questa pandemia abbiamo prima avuto una fase quasi entusiasta di telelavoro poi una fase di repulsione del cosiddetto telelavoro dell'home working insomma di tutte queste cose qui e quindi lo smart working è sicuramente una risorsa ovviamente come tutte le novità andrà normata e quindi andrà regolamentata però io aspetterei non dico la fine della pandemia ma forse qualche mese in più prima di immaginare che il nostro mercato del lavoro cambia così repentinamente dopodiché se per qualche categoria e ci sono le categorie che possono diciamo lavorare anche a distanza avere il cosiddetto lavoro facile perché non debbono avere rapporti diretti con il pubblico o altre cose beh si normalizzerà come si dovrà normalizzare per i rider e per tutte queste attività nuove che rappresentano il futuro non so chi vorrà prego Paolo grazie cum grano salis no nel senso che è una suggestione intrigante interessante ed è una opportunità della della tragedia no della pandemia ovviamente va misurato intanto i numeri insomma di cosa parliamo e proviamo a verificare questi numeri in una condizione di stabilizzazione del dato e anche di certezza del dato poi non v'è dubbio che vi sono molte categorie di lavoratori che possono in qualche misura utilizzare questa forma anche come accompagnamento accompagnamento per evitare da una parte scaloni eccessivi e d'altra parte anche traumatismi dal punto di vista sociale dal punto di vista politico non v'è dubbio che la suggestione c'è tutta e sul piano tecnico ci si può lavorare ma si può lavorare solo dopo aver misurato realmente lo stato dell'arte analizzato i dati e i dati con una certa con una certa come dire un elemento di certezza approfondita anch'io velocemente lascio le stime al professor Brambilla e però raccolgo la suggestione politica anche che sta dietro alla domanda di Davide Colombo quando parlavo di invecchiamento attivo alcuni strumenti di invecchiamento attivo possono essere pensate anche ripensando l'organizzazione del lavoro anche in chiave di smart working certo con un'attenzione però a non chiudersi solo in quel filone perché alcune mansioni alcune categorie possono permettersi lo smart working altre no e quindi pensare solo a quello potrebbe creare degli squilibri tra categorie di lavoratori quindi è uno strumento che va messo in un menu di strumenti più ampi in questa ottica di invecchiamento attivo fatta prego Paolo Andruccioli volevo sapere se oltre al discorso su separazione della spesa per agenziale assistenziale ci sarà secondo voi il tavolo del nuovo governo anche la questione della differenza dei lavori perché i sindacati mi pare che pongono problemi dei lavori gravosi e della differenza rispetto alla speranza di vita se volete rispondo velocemente nel senso che penso che ci debba essere io quando ero al governo insieme al ministro Poletti ho fatto un accordo con i sindacati in cui si istituiva queste due commissioni una per appunto dare certezza alla separazione tra previdenza assistenza e una per rafforzare la base conoscitiva anche in termini di speranza di vita ma non solo oppure in tutte le difficoltà del caso partendo dal principio che non tutti i lavori sono uguali e che quindi dobbiamo essere in grado di dare risposte solettive in base alla gravosità di alcune occupazioni e questo sta anche nella logica che dicevo prima che dobbiamo dare certezza a strumenti di flessibilità in uscita che sono una libera scelta e che quindi devono avere degli schemi attuariali certi e anche invece interventi più mirati più forti e anche di natura assistenziale per chi è in condizioni soggettive di bisogno a partire anche da lavori gravosi sapendo sempre che la unica soluzione da un lavoro che diventa più faticoso non è sempre e comunque la fuga dal lavoro ma anche laddove è possibile rendere meno faticoso quel lavoro ripensando mansioni e organizzazione del lavoro Sì c'è sempre di più una domanda selettiva di pensione e a quella domanda selettiva a quella domanda singola bisogna rispondere in modo selettivo quindi assolutamente sì diventa un elemento di centralità e devo dire per alcuni aspetti diventa anche un elemento che ha un profilo di giustizia sociale ovviamente la risposta ripeto ma ripeto quanto è stato già utilmente saggiamente detto non è l'automatismo di lavoro più oneroso lavoro più faticoso pensionamento anticipato sì nel rapporto che ha preceduto questo quindi un'ipotesi l'abbiamo intitolato un'ipotesi alternativa di sviluppo che potete scaricare dal nostro sito abbiamo fatto una verifica l'organizzazione del mercato del lavoro in realtà in Italia si è un po' inceppata nel senso che non c'è quella tradizione del giro di mansioni e dell'adeguamento delle mansioni all'avanzare dell'età e dell'anzianità di servizio ma ci sono solo degli automatismi salariali che spesso poi sono un documento per chi va avanti nella carriera perché costa troppo rispetto a chi potrebbe fare lo stesso lavoro magari con più forza e con meno costo quindi il tema che si pone e si pone anche sulla cosiddetta gravosità dei lavori ma gravosità anche a livello psicologico voi pensate uno che fa il trader lo può fare per 7 8 10 anni e possibilmente in età molto giovane a 40 anni fare il trader di notte con il collegamento con la borsa di Singapore o con Tokyo o con Hong Kong diventa eccessivamente stressante quindi bisogna che anche il mercato del lavoro e quindi anche la trattativa sindacale e quindi anche l'accordo con le parti sociali entri in quest'ottica in parte e concludo questo si è verificato nel comparto banche e assicurazioni ai quali però a partire dal 2000 con io lo ricordo sempre perché gli devo tanta riconoscenza con il povero professor Gianni Biglia che è stato presidente dell'Inps ma ha avuto anche altre cariche ci inventammo i fondi esubero perché quando le banche vennero nel 98 all'Inps dissero noi abbiamo questa gestione ex amato ma dovremmo come dire fonderci le banche diventeranno molto poche le compagnie anche e quindi avremo tanti esuberi e allora ci inventammo il fondo esuberi che praticamente non è costato nulla allo Stato salvo una breve parentesi gentiloni che stanziò circa 700 milioni ma ha processato stiamo arrivando alle 100.000 unità in anticipo di 5 anni che non sono non hanno gravato sui conti per cui in quel settore c'è stata una riforma del ciclo di lavoro all'interno della banca una volta uno andava allo sportello andava alla cassa o andava si chiamava riscontro all'epoca prima di andare a prendere i soldi alla cassa entrava con i pantaloni corti usciva da pensionato ecco la banca ha cambiato la sua organizzazione del lavoro e anche la compagnia di assicurazione e si sono anche dotati di questi strumenti ecco se riuscissimo a portare questi strumenti anche nell'industria e a creare anche lì dei fondi esubero che sono a totale carico della produzione perché è anche giusto che i profitti vadano alle imprese ma che anche la rimodulazione del personale non sia totalmente a carico della fiscalità generale ecco allora quella ape sociale a cui faceva riferimento a Tommaso è diciamo l'evento estremo cioè quelli che non hanno più un'occupazione quelli che non hanno più un datore di lavoro quelli che proprio non sono più riclassificabili nel mercato del lavoro debbono essere assistiti ma a questo punto avremmo molto molto meno quindi ecco quota 100 tutte le altre anticipazioni andrebbero proprio risolti in questo rinnovo del mercato del lavoro se ci sono altre domande Giuliano Cazzola la parola a te Giuliano mi sentite? ah sì allora la questione è questa è uno studio della Porta dei Conti peraltro nell'ultimo rapporto istituzionale del 2020 sul 2019 che da dei dati secondo me che sono molto interessanti su quota 100 cioè dimostra che in realtà i due requisiti insieme non li becca nessuno dicendo in sostanza succede che si è andato in pensione mediamente si è andato in pensione con un'età superiore a 62 anni la grande maggioranza è andato in pensione a 64 anni e diciamo dal versante dei contributi la grande maggioranza è andato in pensione con 41 anni perché ovviamente c'era gente che aveva 62 anni ma non aveva 38 anni di contributi e persone che avevano 38 anni che non avevano 62 anni di contributi perché in realtà chi ha cominciato a lavorare nell'epoca dei baby boomer arriva ad avere 38 anni di contributi prima di avere 62 anni in generale allora se questa situazione di fatto sostanzialmente diciamo sdrammatizza la questione dell'età pensionabile perché anche quota 100 fatta in nome di un'età pensionabile più bassa nella sua applicazione ha visto sostanzialmente avvicinarsi invece l'esercito dell'età pensionabile e il requisito contributivo io credo che tirare il collo a quota 100 per portarla per portarla vicino in uscita per portarla vicino a requisiti anagrafici e contributivi più adeguati non dovrebbe creare dei grossi problemi proprio perché c'è una situazione reale che è diversa dalla situazione normativa sì grazie Giuliano effettivamente l'anticipo medio di tutto l'apparato di quota 100 è di circa due anni quindi significa che sono molto molto pochi c'è meno di un 15% che è andato con 62 anni o con 63 il grosso va tra i 64 e i 65 e le anzianità contributive medie sono circa un anno e mezzo in più dei 38 quindi ci situiamo per una certa parte oltre i 39 quindi quello che sottolineava anche prima Tommaso Nannicini nella riforma Montifornero è stata confermata l'adeguamento dell'età di pensione all'aspettativa di vita che era stata prevista dal governo precedente e sostenuta dal nucleo di valutazione però è stata anche indicizzata l'anzianità contributiva ecco questo è evidentemente forse una forzatura quindi nell'ambito di una eventuale revisione noi suggeriamo di tenere bloccati intorno ai 42 anni 42 anni e un po' di mesi la anzianità che se andiamo a vedere sempre quel lavoro che avevamo fatto quando arriveremo a quelli che sono nati intorno al 56 57 la stragrande maggioranza non arriveranno in età molto molto lontane dai 67 anni ad avere accumulato almeno 41 anni di contributi anche perché poi c'è tutto l'ultimo periodo di coda che sono questi ultimi 10 anni dove diciamo il nastro contributivo ha avuto spesso dei buchi per cui noi immaginiamo che l'effetto precoci 41 anni potrà andare avanti ancora per 2 barra 3 anni dopodiché se noi facessimo per dire una quota 102 spero che neanche non posso neanche più dire il mio amico Salvini perché si è molto incazzato quando gli ho detto che quota 100 non andava bene quindi il mio conoscente Salvini e forse con 102 quota 102 103 potrebbe essere soddisfatto non so se vuoi aggiungere qualche cosa Paolo bene dottoressa Pani la parola a lei buongiorno a tutti ovviamente mi tocca di farle una domanda sulle donne che dunque lei nel suo rapporto giustamente evidenzia la diversa composizione dell'assegno finale pensionistico delle donne rispetto agli uomini le donne soffruiscono di maggiori prestazioni cumulano una serie di prestazioni mi è venuto in mente vedendo questo dato mi sono venute in mente le ultime rilevazioni sia dell'Istat sia di Union Camere che ci segnalano come l'ultimo anno ha visto una perdita consistentissima di posti di lavoro femminili e una perdita consistentissima di imprese femminili allora la domanda un po' provocatoria è non è che alla fine di questo anno di pandemia quando poi ricominceremo a fare i conti su una situazione diciamo di normalità ci ritroveremo con una platea di donne che si situano tutte nell'area assistenziale perché il problema dell'occupazione femminile è un problema che ancora non è stato diciamo minimamente affrontato in nessun modo cioè da un punto di vista previdenziale questo può essere un problema? Rispondo beh sì è certamente un problema noi abbiamo risposto spezzettando un po' tutte le prestazioni oggi già il circa il 70% delle prestazioni di natura assistenziale va alle alle donne nel senso che la maggiorazione sociale la quattordicesima mensilità tutte queste diciamo queste funzioni vanno sulle pensioni perché molte di queste prestazioni sono per l'ottanta e passa per cento la reversibilità è rosa e quindi in generale nella ipotesi migliore la pensione è il 60% della diretta nelle ipotesi invece peggiori si arriva anche al 50% per cui considerando che una pensione è di mille mille cento euro potremmo tranquillamente arrivare a 550 euro quindi diventano beneficiari questo per lo stock delle pensioni il punto vero è che in Italia mancano le politiche del lavoro mancano come diceva Paolo Russo prima soprattutto in alcune in tante zone del sud e direi in alcune zone anche del nord le strutture gli asili nido la scuola a tempo pieno cioè tutte quelle funzioni che possono sgravare in un certo senso le donne ma manca anche molto incentivo all'imprenditorialità femminile perché soprattutto nell'ultimo mese c'è stata questa grossa perdita perché nei fatti il grosso della perdita prodotta dalla pandemia è nel settore turismo nel settore alberghiero nel settore dei negozi nel settore dell'assistenza familiare molti hanno preferito non avere nessuno che venga in casa salvo chi non è autosufficiente ovviamente e quindi il grosso è finito lì quindi io mi auguro che nell'ambito di questi programmi di investimento ci possa essere anche un investimento molto molto mirato nella nostra proposta pensionistica almeno per le donne madri avremmo voluto allargare così abbiamo proposto che come dice Ladini per le donne madri c'è uno sconto nella anzianità contributiva e nell'età di pensionamento fino a un massimo di tre figli adesso è difficile che ne arrivino così tanti proprio per come dire dare un'agevolazione che è un'agevolazione per modo di dire ma per dire cerchiamo di fare in modo che chi ha avuto anche problemi di cure domestiche di cure di figli abbia un trattamento insomma sono circa 24 mesi di anticipo nella proposta che vuol dire anziché 67 anni 65 non è tantissimo ma è comunque un passo non so se vuoi dire qualche cosa direi che se non ci sono più domande sono le 13 e 01 abbiamo esaurito il nostro spazio a disposizione io vi ringrazio tutti e avete il rapporto e alla prossima di nuovo arrivederci grazie a tutti